Buongiorno, benvenuti a questa zuppa del 22 marzo. Io per un po' ancora starò a casa, come sapete, perché il tampone che ho fatto di controllo ieri è stato positivo, cioè quindi negativo per me. Insomma, ho ancora la malattia e qua dentro ancora nella laringe e qua dentro ancora nel mio apparato, diciamo, quello più infettivo. Allora io mi sono chiesto ieri, e l'ho fatto in un video che vedrete sul sito nicolaporro.it, ma ragazzi, ma se io è una settimana che non ho sintomi eppure posso contagiare, pensate un po' voi quanta gente c'è in giro là fuori che va a fare la spesa, cioè ancora è possibile fare la spesa, e che contagia senza saperlo, perché nessuno praticamente questo tampone l'ha fatto. Ma voglio andare subito sulla lettura dei giornali, perché intanto mi scuso per l'orario della zuppa questa mattina, un po' più tardi rispetto al solito, ma ieri sera, come tanti di voi, ho fatto tardi, perché rullo di tamburi, ieri sera il grande Conte Casalino, cosa si sono pensati di fare una conferenza stampa alle 23.51, prima doveva essere le 22.45, poi le 23.51. Tutti i canali televisivi del mondo diranno, porca puttana, sta arrivando la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, di sabato sera alle 23.00, che cosa avrà mai da dire lo show del Presidente Conte, anzi non si può criticare, perché molti di voi possono pensare che io sia uno sciacallo, però io mi limito a dire, secondo voi, se tu fai un annuncio alla Nazione, lo fai via Facebook, io che uso Facebook e lo considero un elemento per me di libertà, perché mi permette in questo momento di comunicare con tutti quanti voi, oppure lo fai, se sei Presidente del Consiglio, alle Camere riunite, se è così importante, e no, ma le Camere non si riuniscono da due settimane, ha ragione il Presidente Casellati, che dice, io sto lavorando, ed è una delle poche che sta lavorando alla Presidenza del Senato, ma io voglio proprio plasticamente vedere le Camere, vorrei vedere le Camere come ci fu Pannella quando fece l'autoconvocazione delle Camere, capisco che stanno lavorando le Camere, ma non basta, io voglio vederli tutti là dentro, Quagliariello ha proposto addirittura, non abbiamo gli spazi nelle Camere perché c'è una distanza inferiore al metro, beh, imprendiamoci un palasport, qualsiasi cosa che sia utilizzabile per poter essere riuniti, perché se no il rischio è quello che c'è Conte Casalino, alle 23.51, che dicono, e poi lo vedremo, che cosa dicono, non una conferenza stampa, non una domanda, non una RAI unificata, no, niente, lo fanno su Facebook, questa è l'Italia di Conte Casalino, un po' distopica se uno dovesse usare la parola che va oggi di moda, sembra di vedere un film di quelli di Designated Survivor, però lì in quel caso era Fico quello che era diventato Presidente del Repubblico Americano, ma che cosa dice? Beh, io do ragione completamente, quello che ha preso, secondo me, meglio il lato di quello che dice Conte, oggi è Franco Becchis sul Tempo, che è uno di quei giornali, in questo periodo, lo dico da amante del mio giornale, del giornale, non voglio mai insultare nessun giornale, perché io non insulto i giornali, sono semplicemente un lettore critico, mettiamola così, un po' esterico la mattina, però Becchis oggi ha ragione, il titolo del Tempo è Conte chiude l'Italia in uno show! Beh, insomma, dice Becchis, ma non lo fa come mai, toc toc! Ci puoi dire, per favore, quali sono le attività che sono state chiuse? Quali sono le fabbriche essenziali? Ci puoi mandare una lista? Ci puoi mandare l'elenco di chi può stare aperto e chi non può stare aperto? Quello che chiede Becchis a Casalino e Casino gli risponde, beh, le fabbriche essenziali rimangono aperte e quelle non essenziali rimangono chiuse. E il comma 22, le fabbriche essenziali rimangono aperte e quelle non essenziali rimangono chiuso. Se loro potessero rispondere, le fabbriche che fanno i prodotti agroalimentari, gli imballaggi per l'agroalimentare, che fanno i salvavita, che permettono di utilizzare, per esempio, le auto che qualche volta possono essere essenziali, cioè tutto può essere essenziale e non essenziale, i commercialisti che mi stanno scrivendo, sono essenziali o non sono essenziali? Posto che, a dispetto di quello che dice Villarosa, sottosegretario dell'economia che sostiene che io sono un sciacallo, le tasse le dobbiamo pagare. Ci abbiamo quattro giorni di ritardo ma le abbiamo dovute pagare, le dovremo ripagare, i commercialisti li chiudiamo? E se chiudiamo i commercialisti, visto il nostro sistema fiscale, come le paghiamo le tasse? Mi ha scritto Matteo, Sergio, non mi ricordo, che fa a un ristorante praticamente che sta saltando, perché hanno i ristoranti e anche loro hanno dei debiti, che fa le consegne a domicilio. Io ringrazio questi ristoratori per le consegne a domicilio perché io sono da solo a casa e io sono fortunato, ma c'è qualcuno meno fortunato di me, che non ha soldi o magari non ha neanche parenti, e chiede il mio amico ristoratore, scusami, io sto mandando i pasti caldi che faccio, non c'è nessuno a casa, ma io lo posso fare? C'è nella lista di Casalino, a lui che cazzo gliene frega? Che cosa gliene frega a Casalino? Cosa gliene frega? Allora loro stanno lì a Palazzo Chigi, hanno l'uomo della scorta che è diventato positivo, l'ho letto oggi, positivo l'uomo della scorta, quindi lui si fa subito il tampone, vede se è positivo o no, è negativo il Presidente del Consiglio e vai avanti là. Ma la lista ce la vuoi dare? Ma perché hai fatto una conferenza stampa alle 23.51 spiegandoci che sono aperti i supermercati o i tabaccai, sono aperti i tabaccai, sono aperti i benzinai, peraltro oggi è domenica, molti sono chiusi soltanto perché oggi è domenica. Ragazzi, è una roba che se tu pensi che il Presidente del Consiglio fa una conferenza stampa alle 23.51 su Facebook non dicendo nulla, beh, allora ti viene il sangue al cervello, penso, immagino, ma non è finita qua, perché i giornali come la interpretano, uffici e aziende, nuove chiusure, dice genericamente il Corriere della Sera, le attività produttive non necessarie, il non necessario poi lo stabilirà Casalino, quindi tu come ha fatto Becchis chiami Casalino, gli chiedi che cosa ti dice, lui dice le non necessarie, autoesplicante, chiusi gli studi professionali, boh, vedremo, i ristoranti a domicilio, boh, lo vedremo, le fabbriche che fanno pezzi fondamentali di manutenzione per l'attività quotidiana, boh, vedremo, l'Italia sbarrata, dice Repubblica, coprifuoco, titola senza tanti salamerecchi, il mattino. Poi qualcuno inizia a porsi il dubbio, vi chiedo io, sul fatto che in Italia ci siano ieri 793 morti e che siamo arrivati a 4.800 morti, a 6.000 guariti, a 42.000 positivi, quando con la metà dei positivi c'è 68 morti in Germania, metà dei positivi 68 morti, perché io ho visto il video del mio amico Fabrizio Luccherini, che è un radiologo, per il momento mi sembra che sta a casa da 10 giorni perché secondo me se l'è beccato anche lui il coronavirus, solo che a differenza mia non gli fanno il tampone, quindi non lo saprà, e Luccherini dice una cosa, che ci arriva anche un bambino piccolo, piccolo, non c'è bisogno di essere un grande medico come il mio amico Fabrizio Luccherini, un bambino piccolo, questi numeri sono falsi, sono falsi, i numeri che stiamo dando e che vi rendono tutti preoccupati sono una falsità, una fake news, quando la Gcom fa la fenomena la Gcom dice non fate girare le fake news, la prima fake news è quella che dice Borrelli tutte le sere alle 18 facendoci paura, sono dati falsi, chiunque di voi sa che non è vero che sono 42 mila i contagi, sono 10 volte di più perché ci arriva un bambino piccolo, oggi lo dice un virologo, virologo Clementi, oggi sul Corriere della Sera, cosa dice? Il fatto che in Germania la mortalità è più bassa, 89 morti e 20 mila, vuol dire che c'è un sistema di classificazione un po' diverso delle morti ad esempio, anche il numero delle morti è diverso, 4800 morti in Italia rispetto a 86 in Germania, ragazzi saranno più bravi, avranno più terapie intensive, ma vi sembra possibile visto che siamo tutti in occidente o magari in Italia classifichiamo come morti per coronavirus quelli che in Germania non considerano morti con coronavirus, poi dopo che ci sia un disastro gli ospirali lombardi nessuno lo nega e su quello si deve lavorare, come ha fatto Bertolaso e tra poco ci arriveremo, ma che questi numeri siano falsi lo dovrebbe toc toc! A Gcom invece di rompere le palle a noi vai da Borrelli e chiedi se è sicuro che 42 mila sono i positivi e se è sicuro che 6 mila sono i guariti e ancora i morti, secondo l'Istituto Superiore della Sanità solo l'1,2% di questi morti sono morti per la patologia del coronavirus, questo non vuol dire sia chiaro perché c'è qualche cretino che pensa che si sottovaluti quello che succede a Brescia in questo momento, quello che potrebbe succedere a Milano, quello che succede a Bergamo, quello che succede in tanti ospedali è un disastro e bisogna lavorarci, però mettendo i numeri giusti, facendo le giuste proporzioni, cercando di trovare le soluzioni giuste, non facendo le conferenze stampa alle 23.51, lo show alle 23.51, dopo il grande fratello ci va Casalino e Conte, numeri tutti falsi, doppia pagina oggi del Corriere della Sera che dice più o meno la stessa cosa, cioè dice questi numeri italiani non sono attendibili, non sono attendibili nei positivi perché sono molti di più e se non sono attendibili i positivi che sono molti di più evidentemente il ratio tra morti e positivi non è del 9% che è sempre il paese in cui muoiono più persone al mondo, nel frattempo ovviamente ci sono delle altre cose straordinarie, per esempio l'altro video che vi faccio vedere è quello di Bertolaso che sta lì a preparare l'ospedale di Milano e lo spiega, lo spiega in 4-5 minuti perché ha bisogno di spiegarlo, ha bisogno di medici e voi se vedete il video di Bertolaso capite il motivo per il quale Bertolaso è soltanto un grande governatore come Fontana e devo dire anche un grande sindaco in questo caso come Sala, nonostante le minchiate che molti di voi gli possono attribuire, li hanno preso perché se ne fottono, perché Fontana e Sala se ne fottono, se ne fottono della loro credibilità in questo momento, vogliono risolvere un problema, non vogliono fare gli show alle 23.51 come Conte, Sala e Fontana sanno che sono in emergenza, che se c'è una persona che li può aiutare si chiama Bertolaso e collaborano con Bertolaso in emergenza, tra l'altro molto da segnalare il buono il giornale di Alessandro Sallusti e di Vittorio Feltri che fanno l'unica cosa che un giornale del nord oggi può fare e cioè recuperare soldi per questi due giornali per l'ospedale, fanno un grande annuncio e cioè colletta per l'ospedale di Milano, aiutiamo noi e fanno bene Sallusti e Feltri sui due giornali libero e giornali uniti per fare l'unica cosa che in questo momento serve e cioè aprire il prima possibile questo ospedale a Milano perché nonostante quello che ci stanno raccontando le chiusure che abbiamo adottato da 15 giorni praticamente non sono servite purtroppo a ridurre i morti perché il problema non sono le chiusure ma è capire chi sono i positivi e soprattutto fare delle terapie intensive. Poi la Gcom come dice Luigi Mascheroni se la prende con le fake news oggi ho letto che il farmaco diciamo giapponese che mi avete sbomballato ieri mandandomi 500 volte il farmaco giapponese e la settimana prima era la Spirina C e quando io mi dovevo curare con la curcuma. Ragazzi ragazzi non c'è un complotto mondiale che vede alcuni farmaci se i farmaci dovessero funzionare facciamolo stabilire ai medici non ai complotti su internet non voglio più vedere un farmaco miracoloso che mi viene mandato da quello che sta in Giappone o quello che sta in Russia o quello che dice perché non usate gli antivirali ragazzi gli ospedali sono se avessero il farmaco miracoloso lo utilizzerebbero smettiamola con questa idea diciamo del complotto che non vogliamo usare il farmaco buono che invece i giapponesi hanno e noi no. Se ci fosse lo useremmo e simple e sdette perché vi consiglio di sentire un medico e capire come quelli in prima linea se avessero anche l'acqua calda la utilizzerebbero per salvare queste persone ovviamente con plotti della minchia su cui perdiamo tempo. Nel frattempo c'è Gentiloni che ci rassicura oggi sulle questioni economiche che sono le vere come dice Fausto Carioti oggi e Gentiloni ci dice il commissario europeo all'economia appunto oggi ci spiega Gentiloni sul sole 24 ore che bisognerà c'è tutta la volontà dell'Europa di aiutare l'Italia si faranno i bond i covid bond le Germania ha cambiato dato segnali importanti di apertura. Io tra l'intervista di Gentiloni nel sole 24 ore e l'intervista di Giulio Tremonti che dice un'altra cosa Giulio Tremonti attenzione perché quando noi utilizzeremo gli strumenti ve la semplifico di questi grandi meccanismi europei noi stiamo mettendo la testa nel tagliere nella ghigliottina è inevitabile che lo faremo non i covid bond che è una vecchia proposta di Tremonti del 2011 governo Berlusconi cioè facciamo un bond europeo non questo ma l'utilizzo dei meccanismi europei farà sì che l'Italia dice Tremonti faccia come Sipras sostanzialmente stia mettendosi in pancia e in casa la troica oggi siamo tutti a casa siamo il popolo che si cantava mentre stavano morendo le persone e pensava mentre perdeva le libertà stava a casa a cantare sui balconi fra sei mesi non so se canteremo sui balconi quando la troica arriva questa è una mia aggiunta a quello che dice oggi Tremonti non facciamo polemiche politiche dice Travaglio sul fatto e ovviamente dice che la colpa di tutto quanto questo pasticcio è di Sala di Gori il sindaco di Bergamo cioè tutto il problema è del sindaco Sala del sindaco Gori e del presidente della regione Fontana e anche un po' Zaia forse quello ma invece Conte ha capito tutto sin dall'inizio io vi invito a leggere Travaglio perché il modello italiano per Travaglio è quello dello straordinario premier Conte che alle 23.51 su Facebook ci spiega che chiuderà il paese senza spiegare come boccia nel frattempo quella battuta che aveva fatto che era devo dire fuori luogo io lo conosco so che sarà stata fatta forse come posso dire in un momento anche di stanchezza perché mettersi una mascherina dicendo che quella che usa io sono convinto che lui use quella mascherina ma il problema è che ne hanno mandati quelli della protezione civile 250 mascherine così in Lombardia non scherziamo su questa roba caro boccia perché quella roba lì Lombardia è stato un segnale l'ennesimo della sottovalutazione del loro problema e lui si presenta in conferenza stampa e si mettono a ridere lui e Borrelli su quella roba lì beh insomma oggi ci sta che Belpietro e altri giornali compreso il giornale chiedano le sue dimissioni chiedere è lecito rispondere diciamo è si può anche evitare e file supermercati e l'altra grande genialata italiana cioè nel momento in cui oggi ci sono tanti positivi come il sottoscritto che non hanno sintomi secondo voi io vi faccio una domandina da disegnino i supermercati li dobbiamo tenere più aperti o dobbiamo concentrarli in poche ore gli acquisti no ma io ve lo chiedo cioè è una cosa discutibile questa e questa va rivale riguarda per tutti cioè secondo voi nel momento in cui tanti positivi perché non facciamo i tamponi girano liberamente per le strade perché devono andare a fare la spesa ancora questo lo concediamo finché non diventiamo la Cina per cui sono i militari che ci portano la spesa a casa ma fino a quando non ci sono i militari che ci portano la spesa a casa e ci arriveremo beh insomma secondo voi e conviene avere i supermercati sempre aperti o concentrare quelle tante persone in poche ore in maniera tale che quelle persone poi stiano in fila uno vicino all'altro e si possa diffondere il contagio io ho questa domanda e con questa domanda vi saluto e vi do appuntamento come sempre sul sito nicolaporro.it ci abbiamo qualche problema sul sito perché ci sono moltissimi accessi e come sempre un po' come Netflix si parva licet come YouTube e come Amazon in questo momento la banda è preziosa e non è che ce n'è tantissimo in giro è una cosa diciamo quella della banda è come un grande tubo e se tutti oggi siamo a casa e mettiamo e ci facciamo passare l'acqua per quel tubo e quel tubo e non riusciamo a renderlo tanto più grande rispetto a quello che l'avevamo a cui l'avevamo previsto un grande saluto a tutti quanti voi ciao